Serata movimentata nel centro di Sondrio a due passi da piazza Garibaldi. Giovedì la squadra volante della questura era intervenuta perché un cliente di un noto bar aveva segnalato di aver avuto una lite con un altro avventore. Durante il tragitto gli agenti hanno notato vicino al locale pubblico una coppia, 38 anni lui e 30 lei, che camminava con andatura barcollante. I poliziotti hanno proceduto con il controllo e i due si sono rifiutati di fornire le generalità. Ad un tratto a bordo di un taxi è sopraggiunto il cliente del bar che aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Quando l'ha visto avvicinarsi la coppia ha dato in escandescenza. L'uomo ha spintonato gli agenti per avere un confronto diretto col rivale. Per evitare la collutazione il personale della squadra volante ha bloccato l'uomo all'angolo tra piazza Garibaldi e lungo Malero Cadorna, ma lui ha opposto la resistenza con calci e pugni sputando verso gli agenti e rivolgendo nei loro confronti minacce e insulti. Nonostante i diversi tentativi di calmarlo, l'uomo non accennava a placarsi, al punto da costringere i poliziotti ad utilizzare lo spray anti-aggressione e in seguito le manette. Mentre gli agenti lo contenevano in attesa d'arrivo di altri equipaggi, la donna si è scagliata contro un poliziotto, aggredendolo e provocandogli lesioni guaribili in sette giorni. La coppia ha continuato a cercare lo scontro fisico, nonostante un primo tentativo di sedazione somministrato all'uomo dal personale medico giunto sul posto, non desistevano. Hanno sputato verso le persone presenti tentando di mordere chi si trovava con le mani vicino al viso. A quel punto sono stati dichiarati in stato di arresto per violenza e resistenza pubblico ufficiale, denunciati a piede libero per rifiuto di fornire generalità, lesioni e porto abusivo di oggetti ate ad offendere. Dentro la borsetta della donna è stato infatti trovato un coltello a serramanico lungo 21 cm. L'uomo, anche all'interno delle celle di sicurezza della questura, ha alternato a momenti di relativa calma, altri caratterizzati da condotte aggressive e autolesionistiche. Tanto deve richiedere l'intervento ripetuto del personale medico. La coppia è stata tratta in arresto e si trova ai domiciliari.